Rischiano di dover aspettare altri tre anni le famiglie inserite in graduatoria per beneficiare degli 82 appartamenti che a breve avrebbero dovuto vedere la luce a Villa Ceccolini nel primo progetto di housing sociale proposto dal comune di Pesaro, ovvero 82 soluzioni abitative in basso canone d'affitto quale risposta a una crescente emergenza casa in città. Una soluzione intermedia destinata a quelle famiglie che non possono permettersi affitti agli attuali costi di mercato ma che allo stesso tempo non versano in condizioni di povertà sufficienti da disporre dei requisiti di assistenza dei servizi sociali. Da maggio 2020 il cantiere ha appaltato alla società Dea Capital Real Estate legata al fondo Civitas Vite al quale il comune ha affidato la realizzazione del nuovo polo residenziale collocato fra via Lago Maggiore e via della Tecnica. La ditta incaricata dei lavori si è però avvalsa di una proroga di tre anni prevista dalle norme dei permessi di costruzione. Lavori dunque interrotti e il comune che nello specifico a Mila della Dora come assessore di riferimento è stato costretto a sospendere la graduatore in essere che prevede 70 assegnatari riaggiornandola al completamento dei lavori. Comune che cerca anche una mediazione per provare ad accorciare i tempi in un progetto che non solo può dare un tetto a 500 persone ma che prevede anche una riqualificazione in termini di viabilità, parcheggi e nuove attività economiche. Grazie a tutti! Grazie a tutti!